Il bio al centro del convegno organizzato dal Ministero dell'Agricoltura, l'Aquila, un settore, il biologico, che ha numeri importanti contenuti nel rapporto bio in cifre 2023. A breve sarà adottato il Piano Nazionale per la Produzione Biologica, che guiderà il settore verso gli obiettivi di sviluppo richiesti dalla strategia europea Farm to Fork e ribaditi nella legge nazionale del 9 marzo 2022. In Abruzzo la superficie certificata biologica è pari nel 2022 a 61.332 ettari, con un'incidenza più che raddoppiata negli ultimi 12 anni, ormai prossima al 15%. Cresce il settore del biologico in Abruzzo, pensate che dal 2010 ad oggi sono raddoppiati il numero degli operatori delle aziende agricole che chiaramente portano avanti la coltivazione biologica e in una regione che si conferma, Regione Verde d'Europa, questo è un connubio assolutamente vincente, quindi prodotto bio, rispetto della natura, potenziamento del turismo e chiaramente delle nostre bellezze artistiche e architettoniche, oltre alla grande qualità dei nostri prodotti. Tra i principali orientamenti produttivi abruzzesi degni di nota, le coltivazioni biologiche di vite da vino e di olivo da olio, che rappresentano rispettivamente il 21% della superficie evitata regionale e il 12% dell'uliveto regionale. Il numero di operatori biologici ha raggiunto nel 2022 le 2.374 unità, praticamente il doppio rispetto al 2010, il 54,8% degli operatori biologici si dedica all'attività vitivinicola biologica, settore strategico e di pregio dell'economia regionale. Siamo raddoppiati rispetto a dieci anni fa, l'obiettivo con la nuova programmazione comunitaria, con il nuovo CSR, è quello di raggiungere l'obiettivo del front of work che ci dà del 25%. Ci sono a disposizione circa 50 milioni che saranno anche elementi di sostegno tra la conversione e quella che è anche il continuare questo tipo di attività e soprattutto ci stiamo credendo molto perché all'interno di quella che è la nuova programmazione che l'abbiamo proprio chiamata Abruzzo Sostenibile, la parte bio ha una trazione importante che è fondamentale proprio per crescere tutto quanto il mondo. Insomma, come regione ci crediamo molto e stiamo lavorando, investendo proprio risorse per far sì che la nostra regione possa essere performante sotto tutti i punti di vista.